Sì, ci proponi tu un esercizio ai compagni? Ehm, stai dobbè che parte? Vieni. Dopo che dopo dovremo lanciare, io propongo di fare cinque volte e portiamo avanti le spalle. Prima di lanciare il jabellotto facciamo degli esercizi e ci esercitiamo lanciando la pallonella. Abbiamo costruito questo jabellotto con un tubo di plastica e in fondo due bottiglie. Pronto a lanciare? Prima di lanciare. Prima di lanciare.